30 Allora domani provano Iaio Iaio Andrea cercalo Cercalo Chi conta adesso? E' dietro quella Iaio 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 è lì dietro Lì Questo albero qua Questo qua Vai vai E' lì E' lì Iaio Cazista Devi prendere però Devi correre Tana Mara Venier si è recata in Puglia Per trascorrere una vacanza con la sua famiglia In particolare con il suo nipotino Oggi vediamo Mara e il piccolo Iaio A giocare a nascondino tra gli olivi Mentre il nipotino si diverte a nascondersi Mara si gode il sole Ma non perde occasione per ritagliarsi del tempo prezioso con lui Il legame tra nonna e nipote è evidente I loro sorrisi e le risate risuonano tra gli alberi Creando ricordi indimenticabili Questa vacanza in Puglia Con il suo paesaggio suggestivo Offre a Mara l'opportunità di rilassarsi E dedicarsi completamente alla famiglia Vivendo momenti di gioia e spensieratezza Questa vacanza in Puglia Questa vacanza in Puglia